Ciao e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Marika Gigante e sono un'esperta in visual merchandising. Nel video di oggi voglio darvi qualche consiglio e suggerimento per installare le vetrine di Natale. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per i commenti, i messaggi che ogni giorno mi lasciate sui miei social, su YouTube, attraverso il mio blog, via mail. Grazie mille per il vostro supporto. Voglio anche scusarmi perché negli ultimi due mesi sono stata così presa che non ho avuto tempo di registrare neanche un video. Finalmente oggi ho creato un po' di tempo per poterlo registrare e caricarlo per voi. Andiamo avanti, immergiamoci completamente nell'argomento di oggi che sono le vetrine di Natale. Eccoci di nuovo qui a dicembre ormai, è il momento di preparare le vetrine di Natale o le vetrine per queste festività. Un sacco di negozianti potrebbero non considerare l'idea di installare delle vetrine per Pasqua o per la festa della mamma, ma quelle del Natale sono irrinunciabili e di solito ci si investe del tempo e del denaro più che nelle altre perché ovviamente i clienti sono più predisposti in questo periodo dell'anno a spendere un po' di più, per fare un regalo o semplicemente per godersi la vacanza, per godere un momento di gioia e di felicità, sono più aperti a spendere. Per cui un negoziante deve sfruttare questa occasione per creare delle vetrine che attragano più clienti e ovviamente incrementare le proprie vendite. Quindi che cosa considerare quando prepariamo, studiamo una vetrina di Natale? Sicuramente ci sono tre elementi fondamentali da considerare e te li dico in questo video. Il primo elemento sono i prodotti, il prodotto di punta che vuoi scegliere di mettere in questa vetrina, il secondo è il tema che vuoi sviluppare all'interno della vetrina e il terzo elemento importante è assicurarsi che entrambi, il tema e il prodotto, funzionino molto bene all'interno della tua vetrina. Quindi come scegliere il prodotto giusto da mettere in vetrina? Praticamente quasi tutti i prodotti sono ideali per una proposta regalo per cui potresti sfruttare qualsiasi prodotto hai in negozio in questa occasione, in questa festività. Se invece hai qualcosa che si vende lungo tutto l'anno puoi decidere di creare dei piccoli pacchetti, dei set che comprendano due o tre pezzi, due o tre prodotti che combinati insieme propongano proprio un'offerta regalo un po' diversa che suggeriscano appunto al passante, al cliente un'opzione un po' più completa. Quindi adesso vediamo come scegliere un tema, un tema vetrina. Come prima cosa ti suggerisco ovviamente di pensare al Natale e di scrivere una lista quanto più lunga possibile, senza snobare niente in particolare, quanto più lunga possibile di tematiche che ti ricordano un Natale, che evocano un Natale nella tua testa, possono essere appunto le cose più tradizionali come l'albero di Natale, le stelle di Natale, i fiori, le decorazioni, le calze, la neve, qualsiasi cosa ti suggerisca il Natale. Vai avanti finché c'è questo impeto. Nella prima fase è importante mettere giù qualsiasi idea possa ricordarti il Natale. Quindi a questo punto vorrei capire come scegliere soltanto uno di questi temi da sviluppare nella tua vetrina. Immagino che tu avrai una lista lunghissima di argomenti, di idee che possano richiamarti il Natale. Ecco quello che devi fare adesso è analizzare, andare a leggerle tutte e capire quale funziona per te, quale è realizzabile per te, per i tuoi negozi, per il tipo di prodotto che vendi, soprattutto per il tipo di prodotto su cui hai scelto di puntare l'attenzione per questa festività. Pensa a quali possono essere i materiali che dovrai utilizzare, come potrebbe essere realizzata al meglio questa vetrina, su cui stai ragionando. Scegli quel tema specifico. Un altro punto importante a considerare è la varietà dei colori. A questo punto puoi scegliere una cosa più tradizionale come per esempio il rosso, il verde, l'oro, l'argento, il blu, anche insomma i colori che sono tradizionali per questa festività. Altrimenti puoi essere un pochino più audace e scegliere qualcosa che possa essere più di tendenza, come per esempio è stato per lo scorso anno il colore pantone Marsala, che l'abbiamo visto su tutto l'anno, anche appunto per il Natale. Quest'anno il colore pantone, i colori pantone in realtà sono due, sono il rosa confetto diciamo e l'azzurro anche lui confetto, il baby blu. Puoi sfruttare qualsiasi combinazione di colore, veramente può essere infinita la scelta. Il mio suggerimento in questo caso è se vuoi scegliere un colore un po' meno convenzionale, dovresti puntare su degli oggetti che richiamino fortemente a Natale, quindi un albero magari di Natale più tradizionale, un classico abete colore naturale o qualcosa che sia veramente richiamante Natale, perché potresti altrimenti scatenare una confusione nel cliente, nel passante che non riconosce la festività, non capisce come mai hai fatto questo tipo di installazione e potresti perdere la vendita. Un ultimo suggerimento che mi sento di darti per il tuo negozio è quello di avere una particolare cura su i pacchetti, sulle confezioni che andrai poi a fare per il cliente che entra e acquista un regalo da te. Il mio suggerimento è quello di creare qualcosa che sia veramente pulito, semplice, più ordinato possibile, insomma. Se vuoi aggiungere una decorazione, assicurati appunto di preparare queste decorazioni in anticipo, in modo che nel momento in cui devi fare il pacchetto si tratti soltanto di applicarle, di posizionarle, perché non abbiamo tempo mai di aspettare all'interno di un negozio in un momento così pieno di lavoro e di clienti, quindi non avrai neanche il tempo per poter seguire ogni fase di impacchettamento, quindi preparati in anticipo queste cose così avrai un ottimo packaging per il tuo Natale. Ho anche creato una bacheca su Pinterest piena di ispirazioni per le vetrine di Natale, per i pacchetti e tutto quanto, trovi il link nell'info box qui sotto. Per oggi è tutto per questo video di Natale, spero ti sia piaciuto, iscriviti al canale è molto semplice, basta cliccare il bottone subscribe che trovi qui sotto, lasciami un commento se vuoi farmi sapere come la pensi. Grazie per aver guardato questo video, alla prossima, ciao!